Musica Eccoci qui allora con il nostro appuntamento settimanale per parlare di sana alimentazione perché come diciamo ricorrentemente mangiare bene significa stare sicuramente meglio e oggi con il dottor Salvatore Cusenza vogliamo affrontare il tema della presenza della carne nella nostra alimentazione e magari aprire anche una parentesi diciamo così diametralmente opposta per quanti non mangiano carne quindi sono vegetariani oppure vegani. Dottore allora intanto per chi non fosse vegetariano o vegano qual è il consiglio che ti sentiresti di dare in merito alla frequenza del consumo della carne magari nelle sue varie tipologie oltre che nella grammatura. Ribuongiorno a tutti per quanto riguarda il carico proteico quindi le proteine della carne parliamo di proteine nobili rispetto a quelle vegetali hanno un valore biologico più alto. Apro e chiudo una parentesi il valore biologico è la proprietà di un alimento di avere una certa qualità nel senso delle proteine la proteina migliore è il siero del latte quelli in polvere che si usava solo nelle palestre prima adesso si usa come integratore anche nell'anziano o nel bambino quindi riesce a mangiare carne, pesce e uova quindi quella viene presa come punto standard di riferimento valore biologico 100. Tutte le altre proteine sono sotto albume, carne, pesce fino ad arrivare alle proteine dei legumi e quelle ancora più sotto. Qual è il quantitativo di proteine giusto? In una persona normale che non fa nessuna attività sportiva andiamo da 0,9 un grammo di proteine per chilo corporeo preso in generale da proteine animali e anche vegetali preferendo un po' più quelle animali perché hanno un alto valore biologico se si parla di un paziente o di una persona che fa sport si arriva anche a un grammo e 3, un grammo e 4 anche a un grammo e 8, 2 grammi di proteine per chilo corporeo perché la persona che fa sport ha un fabbisogno maggiore a causa dell'allenamento e quindi del nutrire il muscolo con le proteine. Con quale frequenza? La frequenza... Su base settimanale ecco se volessi... Ma diciamo che la media deve essere questa grammatura per chilo corporeo poi se viene data in piccole dosi giornaliere o sarebbe opportuno secondo me dare delle piccole dosi giornaliere quindi quei 100-150 grammi al giorno anche 200, poi bisogna vedere anche l'età della persona in una fase di sviluppo di bambino dovrebbero mangiare un po' di proteine nobili l'anziano tende a rifiutare la carne, il pesce se possiamo scegliere meglio preferire il pesce non di allevamento però capisco anche che questo è abbastanza difficile un'ottima fonte di proteine sono le uova le uova quelle allevate all'aperto biologiche consideri che l'uovo è l'elemento dove il pulcino cresce quindi un ottimo elemento ricco di proteine di un certo tipo grassi buoni, ottimo alimento ecco l'uovo ci dà la possibilità di fare un ponte verso il mondo dei vegetariani e dei vegani prima però mi soffermo solo un altro istante sul mondo delle carni perché solitamente la grande distinzione che si fa è quella tra carni bianche e carni rosse sì, queste distinzioni si fa carni bianche e carni rosse prima si cercava di preferire le carni bianche ma in realtà anche oggi le carni bianche sono allevate in massa in allevamenti dove questi volati neanche hanno la possibilità di muoversi se si ha la possibilità sarebbe preferibile scegliere delle carni grass-free quindi allevate all'aperto capisco che è anche difficile ma noi siamo in un territorio dove è facile trovare la carne podolica quindi allevata, nei pascoli, senza mancini di allevamenti, di volatili all'aperto è un po' più difficile quindi cercare sempre un equilibrio se si può preferire scegliere il pesce e le uova le uova di buona qualità sono un ottimo alimento e c'è anche da dire che mentre prima si è sempre parlato delle famose due uova a settimana perché avevano il colesterolo e quant'altro nel 2000 l'anno del Covid se ne ricordo male l'anno dopo è stato pubblicato uno studio in America che si chiamava Diab Egg diabete uova dove sono state prese in considerazione 5.000 persone diabetiche studiate per un anno a cui hanno fatto mangiare per un anno di fila due uova al giorno i valori di colesterolo e trigiridi non sono cambiati perché la verità è che l'80% del colesterolo lo produce il corpo umano il 20% è esogeno quindi possiamo fare poco con l'alimentazione sul colesterolo quando la donna va in menopausa il colesterolo aumenta perché dal colesterolo vengono costruiti gli altri ormoni è la struttura di molti ormoni il colesterolo quindi il corpo lo produce non a caso c'è un motivo per cui lo produce e quindi ecco scusami Tony se poi esageriamo con latticini carne grassa e quant'altro tende a aumentare quindi la carne bianca è meno ricca di colesterolo perfetto e anche il pesce lato vegetariani e vegani oltre il grande classico dei legumi l'uovo quindi rappresenta un alimento l'uovo e latticini nel vegetariano quindi il vegetariano lato ovo quindi può assumere uova e latticini in tutte le sue forme tra cui troviamo anche le proteine in polvere del stile latte che sono la migliore fonte di proteine come dicevo prima il vegano è già un'estremizzazione del concetto alimentazione siamo nati onnivori quindi dovremmo mangiare un po' di tutto ridursi a mangiare solo legumi o verdure ortaggi alla fine dei conti ti porterà a delle carenze di alcune sostanze è sempre un'estremizzazione come anche un'estremizzazione è mangiare solo proteine tutti gli estremi sono un danno per la salute siamo nati onnivori e moriremo onnivori bene l'importante è mangiare con equilibrio moderazione con grande consapevolezza ci tengo a sottolineare l'importanza di provare a rifornirci presso i piccoli produttori locali che magari allevano i propri animali in maniera meno aggressiva all'aperto in maniera più libera diciamo che nella nostra zona questa cosa è un po' più semplice da fare si trova ancora chi alleva lo stato libero lo stato brado nelle grosse città credo sia un po' più impossibile anche se ci sono catene di distribuzione che riescono a vendere carni allevate all'aperto sì poi forse ecco l'Italia è ancora quella nazione dove anche dalle grandi città con uno sforzo minimo con mezz'ora di macchina si può giungere in quelle periferie dove gli allevamenti all'aperto come la regia ci sta suggerendo con queste immagini molto belle sono ancora una realtà produttiva importante del nostro paese è vero che poi queste carni allevate all'aperto costano un po' di più ne mangiamo un po' meno e mangiamo di qualità cioè è meglio preferire la qualità che la quantità logicamente non dobbiamo fare la fame però neanche uccidirci di cibo quindi preferire scegliere di mangiarne 50 grammi in meno ma di qualità sono assolutamente d'accordo con te è un consiglio veramente prezioso quello con cui concludiamo la puntata di oggi della salute viene mangiando scegliamo prodotti di alta qualità anche se li paghiamo un po' di più perché ci consentiranno di stare bene e quindi di vivere meglio vorrei aggiungere una cosa Tony ultimamente negli ultimi tre anni si è osservato un fenomeno per quanto riguarda il grano stiamo importando anche se sempre fatto grano da posti più assurdi come Ucraina Turchia Canada Canada dove proprio il Canada anche Russia a causa delle basse temperature per far maturare il grano si usa il glifosato che tende a seccare il grano non a maturarlo quando troviamo dei marchi di pasta con tracce di glifosato non è il grano italiano perché in Italia il glifosato non si usa da 30 anni che è altamente cancerogeno quindi cercare evitate quei marchi che contengono il glifosato non è il grano italiano ecco magari nella prossima puntata potremmo dedicarla al mondo del grano dei cereali della pasta del pane perché sono alimenti di uso comune dove non si capisce più nulla sinceramente e noi proveremo a capirci di più settimana prossima posso contare sulla tua presenza? certo come sempre allora ci vediamo prossima settimana grazie dottore buon proseguimento di giornata e buona sana alimentazione a tutti quanti voi grazie a voi grazie a tutti